Per mettere davvero in sicurezza tutto il territorio regionale servono fondi di cui non disponiamo, a dirlo il presidente regionale Marco Marsilio durante una conferenza stampa riguardo la spesa dei fondi europei. L'Abruzzo ha superato di circa 2 milioni, la somma prevista di quasi 23 milioni di euro da dover investire per non perdere il diritto al denaro stanziato dall'Unione Europea. Finora questi fondi sono stati utilizzati per porre riparo al dissesto idrogeologico, ha detto il governatore, ma dovranno essere investiti anche per affrontare il problema dell'erosione della costa. Questa mattina intanto ha visitato, insieme al rappresentante dell'Unione Europea Luigi Nigri, uno dei cantieri avviati. Si tratta di quello di Città Sant'Angelo, uno dei 48 comuni interessati dal progetto, dove, spiega il primo cittadino Matteo Perazzetti, si è costruita una nuova parete per salvaguardare il centro abitato dalle frane.